Il Portogallo è devastato in questi giorni da un centinaio di incendi, una dozzina dei quali di dimensioni preoccupanti. Quasi 4.000 tra pompieri e volontari sono impegnati in tutto il territorio con il supporto di una ventina tra aerei ed elicotteri e rinforzi in arrivo da altri paesi, in particolare Spagna, Marocco e Italia, sulla base del meccanismo d'allerta europeo. Lisbona ha chiesto aiuto anche alla Russia. Temperature alte, clima secco e forte maestrale alimentano le fiamme, come sta accadendo anche nella vicina regione spagnola della Galizia o in Francia o in Italia, in particolare in Sardegna. La situazione più grave è sull'isola di Madeira, dove si registrano tre morti e un disperso. Si tratta di anziani che si trovavano in una delle quasi cento case distrutte noto e tempo delle fiamme, in cenere anche un noto albergo a 5 stelle. Evacuate un migliaio di persone. Ora le fiamme minacciano nel centro storico di Funchal, capoluogo di Madeira, la Baisha e la chiesa di San Pietro. Due sospetti piromani sono in stato di fermo. Ai tre morti di Madeira si aggiunge una quarta vittima, un cittadino tedesco, 150 chilometri a nord-est di Lisbona, non lontano da Fatima.